Villa Verla. Hanno fatto esplodere lo sportello Bancomat della filiale locale di Banca Intesa, ma sono fuggiti a mani vuote grazie all'intervento di un cittadino che, sentito il botto, ha avvisato i carabinieri. Ancora un assalto notturno nel Vicentino, dopo quello di Camisano di lunedì. L'esplosione intorno alle 2. I carabinieri della compagnia di Tiene cercano l'auto usata dai malviventi, un Alfa Romeo di colore scuro. Torri di Quartesolo. Viaggiava in auto con una ventina di grammi di marijuana. Il 22enne di Torri, fermato martedì notte dai carabinieri nell'ambito di un apposito servizio. Il 20enne, che ha dichiarato di avere con sé la droga per uso personale, è stato segnalato alla Prefettura che potrebbe disporre anche la sospensione della patente. Stessa sorte per un 25enne di Castegnero, bloccato con quasi 3 grammi di cocaina. Montecchio Maggiore. Turni in notturna che fanno fatica a conciliarsi con la carenza di organi, sono queste le motivazioni alla base dello stato di agitazione del personale addetto al Comando Polizia Locale del Comune. Un problema tra dipendenti e amministrazione che dura da qualche tempo. Lunedì in programma un incontro con il Prefetto. Agugliaro aveva messo in vendita online per conto di un'ignara azienda una macchina operatrice del valore di 15.000 euro, il quarantenne calabrese denunciato dai carabinieri per sostituzione di persona. Il truffato, un 35enne di Agugliaro, a titolo di acconto, aveva effettuato un bonifico di 1.500 euro senza avere più notizia né del venditore né della macchina operatrice. Per questo aveva presentato denuncia ai carabinieri che sono risaliti all'autore della truffa.